Salve a tutti ragazzi, sono Marco95, oggi siamo qui in un nuovo video insieme a... Cronox E... Oggi abbiamo una partita diciamo solo cechini Quindi... Tu hai detto che ti sei allenato e... Si vede, bastardo Non uso tanto Manco io Ho usato un paio di volte Si poteva fare meglio Pugli Vabbè lo facciamo la prossima volta La prossima volta Ciao Marco Puttana, perché non ti ho sparato prima mentre eri distratto? Sono un fail Che cazzo stai? Dove cazzo? Si ha fatto il coltello Sì Cioè perché poi io, no? Sono uscito dalle scale, no? E ti vedevo che tipo miravi Ma perché cazzo non ti ho sparato quando eri... Tipo... Vabbè, basta Che cazzo sto dicendo Malediction Oh, vedi che la connessione adesso... Ma è registrato, stavo guardando la connessione Sì, vabbè, è sempre colpa della connessione Eh, sì, sì Sì, ma perché non muori? Non è giusto Perché... ho HP? Ho tanti HP? Sì, vabbè, ma... Cazzo ti ho sparato anche prima Cioè non troppo tanti Cioè non troppo... vabbè, basta Sì, vabbè, lasciamo perdere La grammatica non è il tuo sport No, è che è un... un impappino Ah, lol Stai un po' fermo sul ponte Ok No, sul ponte è giù Sperando che questo video venga fuori bene Ma dove sto andando? Ma ecco, ma... Mi ha registrato Colpa della connessione Distrai sempre Eh, chissà cosa penso Sì, ma poi tu ieri ti sei allenato Pochissimo, ti giuro, cioè... Due ore e mezza, vedi? Perché due ore e mezza? Venti minuti con un mio amico, ecco Eh, vedi, venti minuti Sì, si fa presto da prendere... Si fanno presto da prendere le nuove cose Minchia Cioè io le cazzo sei qui? Qui? No, cazzo Dove l'è? Uuuuh Cazzo, schivate per... Per la mignota del bimbi Scontro radicinato Porca Eva Uuuuh Muori Non era solo cecchino Bastante Avevo il telefono che mi impediva Eh, vabbè Eh, sì Sempre colpa degli altri Ci sto guardando, eh Non credere che non ti vedo Poi ovviamente io Ti vedo, ma non ti sparo Perché mi fa pieno Mmm, maledetta Ma va, ma Ti stavo sparando Anche io Si può guardare Ma dai Non è bella questa Ok, sfotti C'è solo il fucile a cecchino Ma dai Ma è bello Mmm, no Ti stavo sparando Eh, anche io Sì, però Non vorrei perdere Ah, perché ieri ti sei allenato Così dopo Vai su YouTube E dici Guarda Tuo allenamento Mi è servito Sì, sì Bastava un millisecondo E ti stavo sparando Adesso dove sei? Il demonio Ma non è possibile Sì che è possibile Non vorrei cominciare a tirare giù il paradiso A tirare? Giù il paradiso Ma dove è? A tirare giù il paradiso Vestemmiare Eh, se ti capisci così No, minchia What the hell? Sì, vabbè Io salto e sparo Cioè non è che è una cosa Facile No, ma perché? No, poi qualcuno dovrà morire Se vuoi stare qui fino a domani mattina Ma è impossibile le farsi Oh Ti ho beccato No, non mi è beccato Ti ho visto Ma è impossibile che non ti ho beccato Sei lunata Ma no Non mi è beccato Non mi è Perché non spara? Porco tu Vabbè Ti sfioro sempre Non è possibile Eh, anche io Sei? Olè No, no Questo è un Tu sei Tu usi hacker No, no Sì, adesso se le uso io Tu sei però veramente Ma guarda Il mio spicci non le supporta neanche No, ti giuro Cioè se metto le hack Saltenare a mio computer No, ma Perché cosa pensi? Il mio Povero PC del 2007 POM Adesso ti stupro per bene Ti giuro Io ti stavo inseguendo da mezz'ora Stavo inseguendo Volevo acchiappare il momento Giusto per killarti Subito Inevi Sì Eh Però tu ovviamente Ovviamente tu Non vuoi killare Perché tu vuoi far sempre la guerra Eh Vuoi far sempre la guerra Vuoi uccidere sempre gli altri Sei violento Vergogna Cioè siamo in un gioco Per giocare insieme E tu E tu uccidi Vergognati In un gioco dovrebbero essere tutti amici Allora Sti giochi qui non avrebbero Un cazzo di luogo Sì Sì 24 Ma siamo un fail Un hacker No ma non le sto usando le hack Yeah Eh va bene Ti sfido a Pugli Va bene Va bene dai Facciamo uno nel prossimo video Va bene Vabbè ragazzi Questo è tutto Da Marco 95 Cronox Ciao a tutti